Arrivata una gazzolina dal distretto militare Nel Golfo di Policastro fervono i preparativi per il Festival della Musica Popolare che ha come protagonista principe il vecchio strumento ammantice tanto caro alla civiltà contadina dell'Italia centrale e meridionale La manifestazione ideata da Rocco Fortunato, giunta alla diciannovesima edizione si terrà l'8 e il 9 giugno nella sala del Cineteatro Tempio del Popolo di Policastro Bussentino La gara sarà valida come selezione per il prossimo campionato italiano e mondiale Per questo motivo parteciperà anche l'associazione Amisad Saranno conferite anche tre borse di studio Il Festival Meridionale quest'anno registrerà importanti novità ma proseguirà come sempre con l'intento di far crescere e promuovere questo strumento tradizionale ormai alla ribalta nazionale Nel corso degli anni la manifestazione è cresciuta registrando la presenza di personaggi importanti del mondo della musica tra cui, mi piace ricordare, dice Fortunato, il maestro Beppe Vessicchio che ci onorò della sua presenza in qualità di ospite quando il festival si teneva sul porto di Policastro Chiaramente a decretare i vincitori della diciannovesima edizione sarà una giuria formata da maestri dell'organetto nel corso della serata conclusiva del 9 giugno Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.